Questa sera avete trionfato nuovamente agli Italian Certificates Awards per la terza volta consecutiva. Qual è il segreto del vostro successo? Voi sicuramente come punto di forza avete la diversificazione, ci può raccontare qualcosa in più? Sì, intanto grazie, grazie mille, è vero, noi abbiamo puntato moltissimo su avere sottostanti diversi, pay off diversi durante l'offerta di tutto l'anno. Crediamo che avere il giusto timing, entrare nel giusto momento sul mercato corretto dia un valore importante e consenta anche di gestire un buon secondario da parte dei nostri investitori finali. E come segreto non abbiamo segreti, abbiamo solo tanto lavoro che cerchiamo di fare giorno dopo giorno con sacrificio da parte di tutti. Per il 2015 avete già individuato dei sottostanti, dei pay off sui quali concentrarvi maggiormente? Sì, noi pensiamo che per il prossimo anno la volatilità sarà l'elemento clou che contraddistinguerà i mercati per il 2015, quindi immaginare di organizzare e strutturare prodotti che lavorino sulla volatilità crediamo possa essere una buona strategia di investimento. La seconda è quella income, quindi in qualche modo dare dei buoni ritorni in termini di premi ai nostri investitori che possono battere strutturalmente il rendimento dei titoli governativi in uno scenario di tassi che rimarranno bassi. Grazie, buona serata.